laudentur jesus et maria amici carissimi se non ricordo male perché su questo prendo sempre qualche gaff questa dovrebbe essere l'undicesima puntata del nuovo ciclo di catechesi dedicato al mistero di giuda la figura inquietante e purtroppo anche edificante dell'apostolo traditore voi sapete che purtroppo a volte cosa analoga accade con alcuni esorcismi come letteratura letteratura che abbiamo a disposizione ampiamente ci dimostra che succede che succede che i cattivi testimoni quindi giuda è un umano e poi ci stanno i diavoli a volte fanno una scuola che per certi aspetti per certi aspetti ovviamente quasi superiore a quella che viene dalle fonti celesti perché come dire ci mostrano tutto quello che non si deve fare oppure nel caso dei diavoli quando sono pressati e costretti sono costretti a fare certi catechismi veramente impressionanti per la nostra edificazione perché il fine anche di queste conversazioni ovviamente come in coscienza posso dire tutto quello che faccio nella mia quantomeno nella mia attività sacerdotale pubblica spero anche nel resto perché un sacerdote è sempre sacerdote anche quando sta in casa e anche quando fa le le cose più comuni più ordinarie non smette mai di esserlo però quantomeno in pubblico credo di poter attestare che la mia intenzione anche nel fare quello che sto facendo è l'edificazione di coloro che ritengono utili queste cose quindi di chi in qualche modo le intercetta le ascolta appunto le ritiene attendibili questa è la mia intenzione espressa che dichiaro come dire davanti agli uomini anche davanti a dio poi come ben sappiamo uno dei passi della sagra scrittura che cito spesso è che un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso per cui non dico se mi sbaglio se mi inganno spero che il signore me lo faccia vedere in qualche modo mi faccia ravvedere ecco spero di no però posso non posso sapete che purtroppo non abbiamo non possiamo avere le certezze assolute nemmeno su noi stessi figuriamoci sul prossimo ma nemmeno su noi stessi per cui una virtù poco stimata e poco praticata che peraltro intimamente connessa anzi ne è una parte con la virtù carina della prudenza è una cosa che si chiama cautela essere cauti cauti sempre nelle affermazioni e nei giudizi specialmente quando diventano perentorio troppo sicuri non solo sul prossimo questa è chiaramente la prima cosa da fare ecco ma anche su noi stessi perché tu sei sicuro di conoscerti bene adesso questa funge un po d'introduzione questa conversazione giuda sentiremo sparare di tutti i colori d'accordo e sparava anche sentenze gratuite quindi esclua su se stesso si sentiva molto sicuro di sé si sentiva molto molto il giusto quindi impariamo ecco perché chiaramente quando ci ascoltano certe cose si fa l'apprendimento a contrario no quindi giuda faceva così e quindi io devo fare colà è questo un pochino il il senso di questo di questo ciclo detto questo onde non perderci troppo in chiacchiere perché i capitoli sono sempre un po corposi vediamo un po donato ridò un attimo un occhiato a questo quanto è impegnativo un po ecco quindi procedo subito con la lettura spero di poter avere una buona dizione e come sempre nei momenti opportuni oppure al termine però forse al termine è meglio di no perché queste sono almeno una decina di pagine si sono esattamente dieci pagine quindi un po' impegnativa magari faccio qualche sosta ecco io li chiamo un po' non dico ironicamente ma ecco con un linguaggio un po' defaticante mutuato da dalle competizioni sportive automobilistiche li chiami pit stop ecco quindi avete visto quando si chiamano le gomme che si prendono adesso quando guardavo queste cose fino a qualche anno fa c'erano queste robe duravano pochissimo adesso non lo so che si saranno inventati con con i progressi della tecnologia comunque in bando a queste sciocchezze comincio a leggere il brano di oggi che si intitola va a conoscere dove e come si è formato il maestro il luogo dove si è formato il maestro bisogna ricordare la puntata scorsa perché è un luogo un po' particolare cioè Gesù ha scelto come luogo di formazione insomma un ambiente un po' particolaruccio lui faceva sempre così anche insomma il posticino dove è nato insomma lo ha scelto un po' particolaruccio assai alquanto no e per la verità anche il luogo in cui è morto lo ha scelto in modo particolaruccio un po' alquanto quindi nostro signore come dire è il maestro delle sorprese quale sarà questo luogo dove si è formato adesso andiamo a vedere no il luogo è descritto in un'alba bellissima come selvaggio un monte presenta a mezza costa anfratti o grotte ed è isolato in una pianura arida e sassosa di una desolante tristezza che finisce in un lago di acqua stagnante Gesù dice mentre guardo questa desolazione mi scuote la voce del mio Gesù ed eccoci giunti dove volevo mi volgo lo vedo alle mie spalle fra Giovanni Simone e Giuda presso la costa rocciosa del monte laddove giunge un sentiero sarebbe meglio dire laddove un lungo lavoro di acque nei mesi di pioggia ha graffiato il calcare scavando nei secoli un canale appena disegnato che sarà scolo alle acque delle cime e che ora è via per le capre selvatiche più che per gli uomini Gesù si guarda intorno e ripete sì qui vi volevo portare qui il Cristo si è preparato alla sua missione ma qui non c'è nulla non c'è nulla l'hai detto e con chi eri? col mio spirito e con il padre ah fu sosta di poche ore no Giuda non di poche ore di molti giorni avete capito insomma in quale luogo si è formato Gesù no? questo è il deserto tra l'altro quando si va in terra sante il deserto di Giuda è una delle poche cose che è rimasta praticamente uguale a come era e nel deserto di Giuda non so come hanno fatto ci è costruito è infrattato in un anfratto di questi monticelli che costellano questa larghissima spianata che non è un deserto come il Sahara è terra brulla e rocce hanno costruito sto monastero che ricorda il luogo delle tentazioni e quindi Giuda sta fuori di sé dice ma chi ti serviva? dove dormisti? risposta di Gesù audite audite avevo a servi gli onagri che nella notte venivano a dormire nella loro tana in questa dove io pure mi ero intanato avevo a serve le aquile che mi dicevano è giorno con il loro grido aspro partendo per la preda avevo ad amici le piccole lepri che venivano a rodere le erbe selvagge quasi ai miei piedi mi era cibo e bevanda ciò che è cibo e bevanda del fiore selvaggio la ruggiata notturna la luce del sole non altro aiuta fuori di sé domanda ma perché? risposta per prepararmi bene come tu dici alla mia missione attenzione le cose ben preparate riescono bene tu l'hai detto no? e la mia cosa non era la piccola inutile cosa di far brillare me servo del Signore ma di far comprendere agli uomini ciò che è il Signore attraverso questa comprensione farlo amare in spirito di verità misero quel servo del Signore che pensa al suo trionfo e non a quello di Dio amici cari sottoscrivo 400 miliardi di volte che Dio mi guardi sempre da una tale sciagura che per quanto mi riguarda almeno a livello cosciente volontario è completamente fuori di me e non voglio fare certamente l'apologia ma per fare quello che sto facendo e quello che ho fatto me ne sono beccato in vent'anni quasi di sottosci io veramente di tutti i colori di ogni e da tutte le parti ecco note note o ignote vicine e lontane con sorprese e meno sorprese ecco quindi misero quel servo del Signore che pensa al suo trionfo e non a quello di Dio molto misero mi permetto di aggiungere che cerca averne utile che sogna mettersi in alto su un trono fatto o fatto degli interessi di Dio avviliti sino a toccare il suolo e sì che sono celesti interessi non è più servo costui anche se ne ha l'aspetto esterno attenzione a quello che dice Gesù chi saranno questi serbi che ne hanno l'aspetto esterno e che non lo sono qui c'è una sorprendente Dio incidenza con le letture di questi giorni perché la messa di domenica ah c'era il mercenario no che se vede arrivare il lupo se la squaglia e quando c'è quella messa domenicale poi giorno dopo stamattina viene letta quell'altro dice chi non entra attraverso la porta nel recinto è un ladro o un brigante che è lo stesso concetto del mercenario guardiamoci un pochino in giro e abbiamo sempre occhio discernimento specialmente in questi tempi bui difficili oscuri sentite come commenta Gesù questo soggetto che cerca i suoi interessi o avvilisce i disegni di Dio fino a fargli toccare il suolo che schifo permettetemi una esclamazione di estremo disprezzo per queste cose è un mercante un trafficante un falso che inganna a sé gli uomini e vorrebbe ingannare Dio uno sciagurato che si crede principe ed è schiavo è del demonio il suo re di menzogna qui in questa tana il Cristo per molti giorni visse di macerazioni e preghiera per prepararsi alla sua missione e dove vorresti fossi andato a prepararmi Giuda faccio attenzione a una cosa perché io per carità quando vedo certi personaggi io mi chiedo dico ma questi ci credono in Dio ma chi pensano di ingannare il Padre Eterno ma non si rendono conto che non possono campare così che non possono interpretare il ministero in questo modo che non possono mettersi sotto i piedi il Vangelo pensare di riscriverlo perché gli piace di più quello che pensano dentro il cervello loro ma ci hanno una coscienza questi qua ma lo sanno che devono andare a giudizio particolare ma lo sanno che il ministero che hanno ricevuto non è proprio ma lo sanno che non sono i padroni della parola di Dio ma sono i servi che non possono alterare il magistero ma lo devono promulgare che non possono cambiare la tradizione o le tradizioni ma le devono custodire e trasmettere e pensano che Dio è diventato cieco o pensano che siccome hanno scalato i gradi gerarchici pur i preti a volte sono fatti così perché pur i preti che stanno nel grado più basso della gerarchia a volte si pensano che gli prende un pochino strano ma poi quando si sale il vescovo il cardinale e beh più sali e più responsabilità e più sei tenuto ad essere servo e non padrone non un falso qui Gesù sta parlando con Giuda ma come tutti quanti un prete lo sa benissimo quindi lui parla in termini generici ma queste cose gliele sta dicendo a lui e conclude e dove vorresti che fossi andato a prepararmi Giuda Giuda è perplesso disorientato dice risponde infine ma non so non saprei da qualche rabbi pensavo oppresso gli esseni chi non sapesse chi sono gli esseni erano un gruppo a quei tempi li chiamavano tutti quanti sette insomma ma setta è un termine un po' dispregiativo gli esseni erano una sorta di precursori di quelli che per noi poi sarebbero diventati monaci erano asceti se uno va nella zona del Mar Rosso anche gli iscritti che hanno trovato accumulano eccetera sono ampiamente attestati questi qui anche negli atti degli apostoli si parla di questi esseni no? non so e Gesù risponde e potevo trovare un rabbi che mi dicesse più di quanto mi diceva la potenza e la sapienza di Dio e potevo io verbo eterno del padre io che quando il padre creò l'uomo e so di quale spirito immortale animato e di quale potenza di giudizio libero e capace abbia il creatore dotato l'uomo potevo io andare ad attingere scienza e capacità da quelli che negano l'immortalità dell'anima negando la finale risurrezione gli esseni e negano la libertà d'azione dell'uomo sempre gli esseni addossando vizi e virtù azioni sante e malvagie al destino che dicono fatale non vincibile ah no ha fatto una sintesi delle eresie degli esseni attenzione che alcune cose avete un destino sì lo avete nella mente di Dio che vi crea è un destino per voi mi permetterei non voglio certamente fare il gobbo al nostro signore no ma di metterci le virgolette ve lo desidera il padre è destino d'amore di pace di gloria la santità di essere i suoi figli qui Gesù sta usando ovviamente il termine destino non come lo intendiamo noi perché il destino in senso stretto è una sorte ineluttabile cioè quello è il tuo destino punto lo usiamo nel linguaggio comune no qui sta facendo un velato riferimento io ci ho fatto un ciclo di catechesi insomma ad hoc su questo su questo argomento alla predestinazione ciclo di catechesi per chi gli interessano questi temi si chiama il mistero dell'uomo sta disponibile su tutte le piattaforme podcast come tutte le cose mie e sul canale youtube cioè per quanto riguarda i desideri dell'altissimo tu dovresti avere una sorte meravigliosa cioè noi siamo stati pensati per il paradiso per la vita eterna e per una vita vissuta anche qui sulla terra anche se essendoci il peccato purtroppo la croce ce la dobbiamo bella che abbracciare però pur con le inevitabili tribolazioni e croce una vita bella anche in questa serra in questa sosta terrena allora Gesù dice avete un destino sì lo avete nella mente di Dio che vi rea è un destino per voi però decidere il padre ed è destino di amore di pace di gloria la santità di essere suoi figli questo è il destino che presente alla mente divina nel momento nel quale col fango fu fatto Adamo presente sarà sino all'ultima creazione di anima di uomo un inciso qui Gesù sta dicendo che Adamo fu fatto col fango detto fra me e voi già sento gli esegeti modernisti che dicono beh ma qui sicuramente Gesù si sta adattando alla mentalità del tempo perché non è che Dio ha fatto Dio Adamo dal fango mica vorremmo andare a dire dietro ancora a queste cretinate dicono loro loro eh non lo dico io io ascolto quello che dice Gesù e non mi avventuro in interpretazioni simboliche o allegoriche gratuite chi l'ha detto che Gesù intende dare a queste parole un'interpretazione allegorica o che vuole adeguarsi alla mentalità del tempo questo sta dentro la testa di qualche interprete c'è qualche prova oggettiva per questo per questo fatto qui non lo so quindi questo era il progetto del padre riprendo la lettura ma non vi violenta il padre nella vostra condizione prigione di re prosegue il re se se è in prigione non è più un re è un reietto voi re siete perché liberi nel vostro piccolo regno individuale nell'io in esso potete fare ciò che volete come volete guarda che belle bello è anche pericoloso figlio di negare anche se ci riducessero le schiavitù anche se ci mettessero in galera materiale è che qualcuno può toccare il mio pensiero le mie scelte i miei orientamenti di vita no no tantomeno io adesso voglio mettermi a pensare a questa cosa che qualcuno ci potrebbe violentare nel bene o nel mare di fronte ai confini del vostro piccolo regno avete un re amico e due potenze nemiche due l'amico vi mostra le regole che egli ha dato per far felici quelli che sono suoi ve le mostra vi dice eccole con queste è sicura l'eterna vittoria ve le mostra egli il saggio e santo perché voi possiate se volete farlo praticarle e averne gloria eterna le due potenze nemiche sono satana e la carne nella carne metto la vostra e quella del mondo ossia le pompe e seduzioni del mondo ossia la ricchezza le feste gli onori i poteri che dal mondo e nel mondo si hanno e che non sempre si hanno onestamente e meno ancora si sanno usare onestamente se per un complesso di cause ad essi l'uomo perviene quindi ha nominato Gesù i tre nemici tradizionali dell'anima insegnati da tutti i maestri di spirito quali sono i nemici dell'anima la carne il mondo e il demonio solo che sussume diciamo così la dimensione del mondo e quella della carne perché ne è effettivamente una variabile la carne sono i nemici interni il mondo sta fuori di noi ma tanto il concetto è analogo e infatti spiega satana maestro maestro della carne del mondo parla anche per esso e per la carne anche lui ha le sue regole o se le ha le regole del diavolo e poiché l'io è fasciato di carne e la carne tende alla carne come le scaglie di ferro tendono alla calamita e poiché il canto del seduttore è più dolce di gorgheggio di usignolo in amore fra raggi di luna e profumo di rosetti più facile è andare verso queste regole piegare verso queste potenze e dire loro vi considero amiche entrate entrate avete mai visto un alleato che resti onesto sempre senza chiedere il cento per uno per un aiuto dato così fa noi se entrano e divengano padroni padroni no aguzzini vi legano uomini al loro banco di galera e vi ci incatenano non vi lasciano più alzare il collo dal loro gioco e la loro sferza vi riga a sangue se cercate di sfuggir loro o farsi ferire sino ad aggiungere ad essere un ammasso di carne frantumata così inutile come carne da essere respinta dal loro piede crudele o morire sotto di loro bella roba eh se sapete darvi quel martirio darvi quel martirio ecco allora che passa la misericordia l'unica che può ancora aver pietà di quella ripugnante miseria della quale il mondo uno dei padroni ha ora schifo e sulla quale l'altro padrone satana invia le sue frecce di vendetta e la misericordia l'unica che passa si china la raccoglie la medica la risana e le dice vieni non temere non ti guardare le tue piaghe non sono più che cicatrici ma sono così innumerevoli che ti farebbero orrore tanto ti deturpano ma io non ti guardo quelle io guardo la tua volontà per essa volontà buona sei così segnata perciò io ti dico ti amo vieni con me e la porta nel suo stato allora voi capite che misericordia e re amico sono una stessa persona ritrovate le regole che egli ve aveva mostrate e che voi non avete voluto seguire ora lo volete e giungete alla pace della coscienza prima alla pace di Dio dopo sta parlando molto semplicemente della conversione autentica no? quindi una volta che uno rimane incatenati ci sono due possibilità perché purtroppo se uno si mette nei guai dopo li sconta o farsi ferire fino a giungere ad essere un ammasso di carne frantumata così inutile come carne oppure morire sotto di loro sembra un ecco del meglio di San Giovanni se non credete che io sono morirete nei vostri peccati per divincolarsi dalle situazioni di morte figlioli miei cari è meglio non metterci sì perché dopo bisogna soffrire un bel po' c'è niente da fare allora ditemi allora questo destino fu imposto da uno solo per tutti o fu individualmente voluto da ognuno per sé e risponde stavolta Simone Lozelota fu da ognuno voluto bene giudichi Simone potevo io andare dai negatori della beata risurrezione e del dono di Dio per formarmi qui sono venuto ho preso la mia anima di figlio dell'uomo e me la sono lavorata con gli ultimi tocchi finendo il lavoro di 30 anni di annichilimento e di preparazione per andare perfetto al mio ministero ora io vi chiedo di stare con me qualche giorno in questa tana tanta roba sarà sempre meno isolata la sosta perché saremo quattro amici che fanno forza contro le tristezze le paure le tentazioni le necessità della carne io ero solo sarà sempre meno penosa perché ora è estate e qui in alto vi è il vento delle cime a temperare il calore io vi venni al finire della luna di Tebet e rigido era il vento che scendeva dalle nevi della vetta sarà sempre meno tormentosa perché è più breve e perché abbiamo ora quel minimo di cibo che può dare conforto alla nostra fame e nelle piccole girbe di pelle che vi ho fatto dare dei pastori vi è tanta acqua da bastare per questi giorni di sosta io io ho bisogno di strappare due anime a Satana non vi è che la penitenza che lo possa vi chiedo aiuto sarà formazione anche per voi imparerete come si strappano le prede a mammuna non tanto con le parole quanto col sacrificio le parole il frastuono satanico impedisce che siano udite ogni anima preda del nemico è avvolta in turbini di voci infernali volete rimanere con me ma se non volete andate io resto ci ritroveremo a te qua presso il mercato ah qui bisognerebbe fare un super pit stop adesso capito bene quello che ha detto Gesù oltre al resto eh quindi il tipo di lui ha dovuto limare e perfezionare i suoi trent'anni di preparazione già in mezzo a annichilimenti e sofferenze di ogni genere uno lui maestro da solo e adesso li porta lì dicendo ho bisogno di strappare due animi a satana e ci insegna a tutti specie a noi preti detto fra me e voi come si strappano le animi a satana io io non le sto strappando adesso ammesso che ci riesca a strapparne qualcuna speriamo non le sto strappando adesso le parole sono l'ultimo atto della vita di un ministro di Dio perché un ministro di Dio deve sacrificarsi se ci fosse qualcuno a qualche mio confratello che per sbaglio sentisse queste cose tanto le farà sicuramente prima meglio e più di me sappia che se vuoi convertire qualcuno devi sacrificarti devi soffrire devi fare penitenza devi fare è sempre stato così e non è che adesso è diventato colà non è che una volta si facevano i digiuni e adesso si mangia si beve e si dorme perché tanto il Signore capisce ma che che dobbiamo digiunare a fare che Gesù ha già sofferto per noi ma quando mai sono state dette queste cretinate in duemila anni di storia della Chiesa e da chi e con quale autorità io conosco nessuno se non qualche matto di quelli che girano adesso a giocare a fare i moderni o meglio i modernisti non conosco altri imparerete come si strappano le anime le prede a mammona questo non è mammona questa è mammona mammona in ebraico può indicare sia i soldi oppure un nomignolo che indica il demonio un po' come il curato d'Ars non il curato d'Ars a Santa Gemma lo chiamava chiappino il curato d'Ars grappino ci sono sempre i nomignoli dati al diavolo no? e Gesù li lascia liberi gli propone questa cosa dice se qualcuno non se la sente vada io rimango perché mi servono queste due anime e le anime diceva il buon padre Pio ma vediamo che prima di lui lo dice il nostro signore si comprano anche se anche il nostro signore ci ha comprato perché il nostro signore non ci ha comprato ha pagato il prezzo al padre quale prezzo? redenzione significa pagamento del prezzo del riscatto lo sapevate? apoliutrosis in greco date a vedere che significa apoliutrosis cioè tu c'hai uno avete visto senza questo di persona per liberarlo bisogna pagare il riscatto per forza se no sarà ucciso qual è il nostro prezzo del riscatto? il sangue di Cristo fino all'ultima goccia lui l'ha pagato per noi però quando si tratta di strappargli qualche anima c'è bisogno di qualche altro esborso perché il prezzo del riscatto pagato da Cristo serve a comprare diciamo così la redenzione universale quindi la salvezza per tutti gli uomini il problema è che la conversione di quel singolo individuo deve essere provocata da qualche sofferenza di qualche membra del corpo mistico di Cristo che in unione con lui come dire sarebbe come se riattualizzasse la passione volendo applicarla per quella persona particolare e poi vedi come si converte solo che da quest'orecchia è evidente che a noi figli degli uomini ci piace non sentire bene no maestro io non ti lascio dice Giovanni mentre Simone contemporaneamente esclama tu ci elevi volendoci con te in questa redenzione Giuda non mi pare molto entusiasta ma fa buon viso al destino e dice io resto bene dice Gesù prendete allora le ghirbe e le sacche e portatele dentro e prima che il sole arda spezzate legna e accumulatevi presso lo spacco la notte è rigida anche l'estate qui e non tutte le bestie sono buone un ramo lo accenderete subito la di quella pianta di acacia gommosa brucia bene guarderemo fra le fessure per cacciare col fuoco aspidi e scorpioni perché c'è anche questo problema in un posto del genere andate io aspidi e scorpioni ce l'ho da qualche piccolo problema però vabbè problemi miei lo stesso punto di monte ora solo è notte una notte tutta stellata una bellezza di cielo notturno come credo se ne possa godere solo in quei paesi meravigliosi già quasi tropicali stelle di una larghezza e di un brillio meravigliosi le costellazioni maggiori paiono grappoli di brillanti di chiari topazzi di pali di zaffiri di miti opali di tenui rubini tremolano si accendono si spengono come sguardi che la palpebra cela per un attimo tornano ad accendersi più belle ogni tanto una stella riga il cielo e scompare verso chissà quale orizzonte una riga di luce che pare un grido di giubito stellare per poter volare così su quei prati esterminati Gesù è seduto sull'apertura della spelonca e parla ai tre che fanno cerchio con lui deve essere stato nel fuoco perché in mezzo al cerchio dei quattro un mucchietto di tizi ha ancora bagliori di braccia e getta il suo riflesso sui quattro volti si la sosta è finita questa sosta l'altra volta durò 40 giorni e vi dico era ancora inverno su questi pendii e non avevo cibo un poco più difficile di questa volta non è vero? vede Gesù ogni tanto fa un po' un po' più difficile giusto? so che avete sofferto anche ora il poco che avevamo e che vi davo era nulla specie per la fame dei giovani era sufficiente solo a non farvi cadere languenti l'acqua ancora meno il calore è torrido nel giorno e voi direte che ciò non c'era nell'inverno eh sì ma allora c'era un vento secco che scendeva bruciando i polmoni da quella cima e saliva da quella bassura carico di polvere desertica e asciugava più ancora di questo calore estivo a cui può dare sollievo succhiare questi acidori frutti che quasi non sono maturi allora il monte non dava che vento ed erbe bruciate dal gelo intorno alle acace scheletrite non vi ho dato tutto perché ho osservato gli ultimi pani e l'ultimo formaggio con l'ultima ghirba per il ritorno io so cosa fu il ritorno esausto come ero nella solitudine del deserto raccogliamo le nostre cose e andiamo la notte è ancora più chiara di quella che ci condusse non vi è luna ma il cielo piove luce andiamo ricordatevi questo posto sappiate ricordare come si preparò Cristo e come si preparano gli apostoli come io insegno si preparino gli apostoli bellissimo no? non c'è molto da commentare si alzano Simone con un ramo fruga nelle braci le ravviva prima di sperderle col piede gettandovi sopra delle erbe disseccate e alla fiamma accende una frasca di acacia e la tiene alta all'ingresso della tenda mentre Giuda e Giovanni raccolgono mantelli sacche e dei piccoli otre di pelle di cui uno solo è ancora gonfio poi spegne la frasca contro la roccia si carica della sua sacca e si mette il manto come tutti legandoselo alla vita perché non dia noia nell'andare scendono senza altre parole l'uno dietro l'altro per un sentiero ripidissimo mettendo in fuga piccoli animali che brucano le poche erbe che ancora resistono al sole il cammino è lungo e disagiato finalmente giungono al piano non è molto comodo il cammino neppure qui dove pietre e schegge di pietra si muovono traditrici sotto al piede ferendolo anche perché la terra ridotta a polvere le nasconde e non si possono evitare dove arsi e cespugli di spini graffiano e intralciano attaccandosi al basso delle vesti ma è più spedito in alto le stelle sono sempre più belle vanno 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 per ore la pianura è sempre più sterile e triste luccichi di scaglie brillano in certe piccole vuche del terreno in pozzette fra asperità del suolo paiono anche scaglie di brillanti sporchi giovanni si china a guardarle è il sale del sottosuolo ne è saturo affiora con le acque di primavera e poi si secca per questo la vita non regge qui il mare orientale per profonde vene sparge la sua morte a molti stali intorno solo dove sorgive sorgive dolci combattono il suo mordente è possibile trovare piante e ristoro spiega Gesù vanno ancora poi Gesù si ferma presso la roccia cava in cui lo vidi tentato da satana sostiamo qui sedete fra poco sarà il canto del riallo camminiamo da sei ore e dovete avere fame siete stanchezza prendete mangiate e bevete seduti qui a me intorno mentre io vi dico ancora una cosa che puoi dire tra gli amici al mondo Gesù ha aperto una sua sacca nel tratto pane e formaggio che tagli distribuisce dalla sua zucchetta mesce acqua in una ciotoletta e distribuisce pure tu non mangi maestro no io vi parlo udite una volta ci fu un uomo che mi chiese attenzione adesso se ero mai stato tintato che mi chiese se non avevo mai peccato che mi chiese se nella tentazione non avevo mai ceduto e che si stupì perché io il Messia ho chiesto per resistere l'aiuto del Padre dicendo Padre non mi indurre in tentazione qui Gesù sta dicendo che ha pregato con le parole del Padre nostro Gesù parla piano calmo come ne avrà sono fatto a tutti ignoto Giudachino è il capo come impacciato ma gli altri sono tanto intenti a guardare Gesù che non lo vedano Gesù continua ora voi miei amici potete sapere ciò che solo lievemente seppe quell'uomo dopo il battesimo ero mondo ma non si è mai mondi abbastanza rispetto all'altissimo e l'umiltà di dire sono uomo e peccatore è già battesimo che fa mondo il cuore dopo il battesimo dunque sono venuto qui ero stato chiamato l'agnello di Dio da colui che sante profeta vedeva la verità e vedeva scendere lo spirito sul verbo e farlo unto del suo chisma d'amore mentre la voce del Padre impiva i celi col del suo suono dicendo ecco il mio figlio di letto nel quale mi sono compiacuto tu Giovanni eri presente quando il battista ha ripetuto le parole dopo il battesimo benché mondo per natura e mondo per figura vogli prepararmi sì Giuda guardami il mio occhio ti dica ciò che ancora tace la bocca guardami Giuda guarda il tuo maestro che non si è sentito superiore all'uomo per essere il Messia e che anzi sapendo di essere l'uomo con la U maiuscola ha voluto esserlo in tutto fuorché nel condiscenderlo al male ecco così ora Giuda ha alzato il viso e guarda Gesù che è di fronte la luce delle stelle fa brillare negli occhi di Gesù come se fossero due stelle fisse in un pallido volto e adesso questo se lo impariamo a memoria questa frase qui per prepararsi ad essere maestri o bisogna essere stati scolari bellissimo titolo per questa catechesi io tutto sapevo come Dio la mia intelligenza questo guarda che è spettacolare qui mi poteva anche fare capire le lotte dell'uomo per potere intellettivo intellettualmente ma un giorno qualche mio povero amico qualche mio povero figlio avrebbe potuto dire a dirmi ma tu non sai cosa è essere uomo e avere senso e passione sarebbe stato l'improvero giusto ma sentite che roba sono venuto qui anzi su quel monte là per prepararmi non solo alla missione ma alla tentazione vedete qui dove voi siete io fui tentato da chi? da un mortale? no troppo lieve sarebbe stato il suo potere io sono stato tentato da Satana direttamente Satana è il principe dell'inferno è il più grande dell'inferno è il boss dell'inferno ero sfinito da 40 giorni non mangiavo quindi Gesù ci dice che ha fatto digiuno assoluto ma finché ero stato perso nell'orazione tutto si era annullato nella gioia del parlare con Dio più che annullato reso sopportabile lo sentivo come un disagio della materia circoscritto alla materia sola ma poi sono tornato nel mondo sulle vie del mondo e ho sentito i bisogni di chi è nel mondo ho avuto fame insomma 40 giorni senza mangiare che fa non c'ha fame Gesù lo dice il Vangelo ebbe fame ho avuto sete ho sentito i bisogni di chi è nel mondo ho sentito il freddo pungente della notte desertica ho sentito il corpo affranto dalla mancanza del riposo del letto e dal lungo cammino fatto in condizioni di spossatezza tale che mi impedivano di andare oltre perché ho una carne anch'io amici una vera carne ed essa è soggetta alle stesse debolezze che hanno tutte le carni e con la carne ho un cuore si dell'uomo ho preso la prima e la seconda delle tre parti che fanno l'uomo ho preso la materia con le sue esigenze e il morale con le sue passioni e se per mia volontà ho piegato in sul nascere tutte le passioni non buone ho lasciato crescessero potenti come i cieli secolari le sante passioni dell'amore filiale dell'amor patrio delle amicizie del lavoro di tutto quanto è ottimo e santo e qui ho sentito la nostalgia della mamma lontana qui ho sentito il bisogno delle sue cure sulla mia fragilezza umana qui ho sentito rinnovarsi il dolore di essermi staccato dall'unica che mi amasse perfettamente qui ho presentito il dolore che mi è serbato e il dolore del suo dolore povera mamma che non avrà più lacrime tante ne dovrà spargere per il suo figlio e per opera degli uomini e qui ho sentito la stanchezza dell'eroe e della sceta che in un'ora di premonizione si rende cognito dell'inutilità del suo sforzo ho pianto la tristezza richiamo magico per satana non è peccato essere tristi se l'ora è penosa è peccato cedere oltre alla tristezza e cadere in un'inerzia o in disperazione ma satana subito viene quando vede uno caduto in l'anguore di spirito è venuto in veste di benigno viandante così narrano gli scritti di Maria Valtorta prende sempre aspetti benigni avevo fame e avevo i trent'anni nel sangue mi ha offerto il suo aiuto e prima mi ha detto di a queste pietre che diventino pane ma prima ancora si prima ancora mi aveva parlato della donna o egli ne sa parlare la conosce a fondo la ha corrotta per il primo per farne attenzione sua alleata di corruzione non sono solo il figlio di Dio sono Gesù l'operaio di Nazareth ho detto a quell'uomo che mi parlava allora chiedendomi se conoscevo tentazione e quasi mi accusava di essere ingiustamente beato per non aver peccato l'atto plaga nel soddisfacimento la tentazione respinta non cade ma si fa più forte anche perché Satana la izza ho respinto la tentazione e della fame della donna e della fame del pane e sappiate che Satana mi prospettava la prima ne aveva torto umanamente giudicando come la migliore alleata per affermarsi nel mondo attenzione non aveva torto la tentazione non vinta dal mio non di solo senso vive l'uomo mi parlò allora della mia missione voleva sedurre il messia dopo aver tentato il giovane e mi spronò ad annichilire gli indegni ministri del tempio con un miracolo non si piega il miracolo fiamma di cielo a farne cerchio di vimini per incoronarsi di esso e non si tenta Dio chiedendo miracoli a fini umani questo voleva Satana il motivo presentato era il pretesto la verità è gloriati di essere il messia per portarmi all'altra concupiscenza quella dell'orgoglio non vinto dal mio non tenterai il Signore Dio tuo mi circuì con la terza forza della sua natura l'oro oh l'oro grande cosa il pane più grande la donna per chi ha bramo sia di cibo o di piacere grandissima cosa l'acclamazione delle folle per l'uomo schifo guardate per queste tre cose quanti delitti si fanno ma l'oro l'oro chiave che apre cerchio che salda adesso è l'alfa e l'omega di 99 o di 99 su 100 delle azioni umane tanto eh 99% per il pane e la donna l'uomo diviene ladro per il potere anche omicida ma per l'oro diviene idolatra il re dell'oro satana mi ha offerto il suo oro purché lo adorassi l'ho trapassato con le parole eterne adorerai solo il signore dio tuo qui qui è avvenuto questo Gesù si è alzato pare più alto del solito nella piatta natura che lo circonda nella luce lievemente fosforescente che piove dalle stelle anche i discepoli si alzano Gesù continua a parlare fissando intensamente Giuda che ce l'aveva tutte donna pane gloria e soldi allora sono venuti gli angeli sono venuti gli angeli del signore l'uomo con la U maiuscola aveva vinto la triplice battaglia l'uomo sapeva cosa voleva dire essere uomo e aveva vinto era esausto la lotta era stata più esauriente del lungo digiuno ma lo spirito giganteggiava io credo che ne hanno trasalito i cedi a questo mio completamento di creatura dotata di cognizione io credo che da quel momento è venuto in me il potere di miracolo ero stato Dio ero divenuto l'uomo ora vincendo l'animale che era connesso alla natura dell'uomo ecco io ero l'uomo Dio lo sono e come Dio tutto posso e come uomo tutto conosco fate anche voi come me se volete fare ciò che io faccio e fatelo in memoria di me quell'uomo si stupiva che avessi chiesto l'aiuto del padre e l'avessi pregato di non indurmi in tentazione di non lasciarmi cioè in balia della tentazione oltre le mie forze così Gesù ci dà anche la interpretazione autentica di questa espressione così tanto travagliata credo che quell'uomo ora che sa non se ne stupirà più fate anche voi così in memoria di me e per vincere con me e come me non dubitate mai vedendomi forte in tutte le tentazioni della mia vita vittorioso nelle battaglie dei cinque sensi e del senso e del sentimento sulla mia natura di vero uomo oltre che di Dio ricordatevi di tutto ciò vi avevo promesso di portarvi laddove avreste potuto conoscere il maestro all'alba del soggiorno un'alba pura come questa che sorge all'ameriggio della sua vita quello da cui mi sono partito per andare incontro la mia umana sera ho detto a uno di voi anche io mi sono preparato lo vedete carapero vi ringrazio di avermi fatto compagnia in questo ritorno nel luogo natale e nel luogo penitenziale i primi contatti col mondo mi avevano già nauseato e sconfortato è troppo brutto ora la mia anima si è nutrita del midollo del leone della fusione col padre nell'orazione e nella solitudine e posso tornare nel mondo per riprendere la mia croce la mia prima croce di redentore quella del contatto con il mondo con il mondo nel quale troppo poche sono le anime che hanno nome Maria o che hanno nome Giovanni lo dicevo nella meditazione di questa mattina beata solitudo solo a beatitudo diceva Seneca perché la compagnia degli esseri umani spesso e volentieri non è così gradevole ora unite tu in specie Giovanni torniamo verso la madre e verso gli amici io ve ne prego non dite alla madre la durezza che fu opposta all'amore del suo figlio ne soffrirebbe troppo soffrirà per questa crudeltà dell'uomo tanto 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 ma non presentiamo il calice amaro sin da ora sarà tanto amaro quando le sarà dato così amaro che come un tossico le scenderà serpendo nelle vincere sante e nelle vene gliele morderà le gelerà il cuore o non dite alla madre mia che Bethlehem e Debron mi hanno respinto come un cane pietà per lei tu Simone sei vecchio e buono sei spirito di riflessione e non parlerai lo so tu Giuda sei giudeo e non parlerai per orgoglio regionale ma tu Giovanni tu Galilei Giovanni non cadere in peccato di orgoglio di critica di crudeltà taci più tardi più tardi agli altri dirai quanto ora ti prego di tacere anche agli altri gli è già tanto da dire su quanto è del Cristo perché unirvi ciò che ha di Satana contro il Cristo oh maestro sì che te lo promettiamo sta sicuro grazie andiamo fino a quella piccola osi la via una sorgiva una cisterna piena di fresche acque e ombre a biazzura la strada verso il fiume la lambe potremo trovare cibo e ristoro fino a sera al chiaro delle stelle raggiungeremo il fiume il quadro e tenderemo a Giuseppe e ci uniremo a lui si è già ritornato andiamo e si incamminano verso mentre il primo rosio in cielo al limite d'oriente dice che un nuovo giorno sorge bene il brano è finito e con questo anche quasi il tempo a nostra disposizione una piccola sintesi Gesù ha voluto portare gli apostoli a vedere come lui si era formato allo scopo peraltro di insegnargli di insegnar loro come si strappano le anime a Satana non con le chiacchiere e nemmeno la sola preghiera è sufficiente basti leggere gli scritti di Santa Colonia e Giuliani quando levo le a qualche anima cominciava a offrire certe penitenze allucinanti e il nostro Signore l'anima gliela dava oppure altre volte era il nostro Signore stesso a chiederle aiuto quindi a invitarla alla sofferenza e alla penitenza per stappare qualche anima sono concetti fondamentali amici che ringraziamo il Signore per averceli trasmessi e facciamo in modo di custodirli liberli e metterli in pratica l'audentur Jesus et Maria